Partita ricca di golla a Verona tra Lellas Verona e le ragazze della CF Arezzo che escono sconfitte di misura nel confronto diretto con l'Escaligere. Eppure l'Arezzo era andato in vantaggio il quinto minuto con la Gnisci, tutto sembrava volgere sul velluto, invece dopo appena un minuto la formazione veneta è pervenuta al pareggio con la Cappucci. Ma l'Arezzo ha cercato di stare in partita ma ha dovuto subire il raddoppio al 28esimo con la Vergani. Sembrava notte fonda invece c'è stata la bella reazione delle ragazze di Emiliano Testini che hanno pareggiato poco prima del riposo al 40esimo con Vicchiarello. Poi nella ripresa non sono mancate le opportunità ma il gol partita l'ha firmato la Peretti che ha regalato i tre punti alla formazione veneta. Grazie!